ciao guardate qua che bel gioco ho trovato adesso andiamo a cercare le nostre amiche macchine dove saranno? andiamo a vedere ecco qui loro garage qualcuno sta ancora riposando toc toc permesso ci sei? eccolo toc toc signora macchina buongiorno ecco la macchina arancione e quella rossa che costruiscono una bella pista diamogli una mano che bello ma macchina gialla non è ancora finita la nostra pista o dobbiamo aggiungere ancora dei pezzi ecco la macchina rossa la nostra pista è pronta siete pronte macchinine per fare un giro facciamo partire la macchinina azzurra e vai poi la verde l'arancione la rossa e quella gialla vado fate posto ecco guardate che bello questo trenino di macchine bene bene ora è arrivato il momento di provare a fare un altro gioco quale? andiamo! smontiamo la nostra pista e la portiamo da un'altra parte ecco qui guardate togliamo questo sasso e con la paletta scaviamo una bella buca per fare un tunnel ecco qui il nostro tunnel è quasi terminato e adesso guardate un po' mettiamo la nostra pista per fare una rampa attenzione mi raccomando ecco macchina rossa sei pronta? e adesso la macchina gialla e quella arancione vanno da sole pronti via c'è un po' di pendenza devi stare attenta pronti e anche la macchina azzurra via è arrivata che bello questo gioco però adesso è arrivato il momento di usare quello nuovo andiamo tutti insieme a a incontrare un'altra amica eccoci qua vediamo un po' che cosa c'è dentro questa scatola sistemiamo le nostre amiche macchine ciao furgone ciao cisterna ciao taxi ciao autobus ciao macchina della polizia io sono una ruspa bene arrivata ruspa allora ti metti qua e vediamo un po' che cosa c'è dentro questa scatola sistemiamo l'adesivo così e qui mettiamo la bandierina siete pronti questa è una rampa che serve per farvi andare più veloce dandovi una bella spinta che bello che bello andiamo pronti via pronti io prima io prima io prima ehi non vi dimenticate di me ti aiuto io ecco eccoci qua pronti per provare il nostro nuovo gioco ecco qui allora chi vuole partire io 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 per primo io allora mettiamo su velocità 1 per vedere com'è carichiamo la nostra rampa pronti e via ma che cos'è questo troppo lento non ho sentito niente mi ha fatto il solletico allora mettiamo il 3 sei sicuro sì sì voglio il 3 carichiamo fantastico e adesso chi vuole provare io 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 voglio provare la velocità 2 ecco 2 via è bellissimo e adesso continuiamo a giocare con le nostre macchinine noi ci rivediamo presto alla prossima puntata per fare ancora tanti giochi insieme non vi dimenticate di mettere like al canale a presto ciao ecco qui il mio camion e la mia macchina se volete possiamo giocare insieme sulla sabbia oh scavatrice qui quando vai avanti la bena raccoglie tutta la sabbia quindi puliamola e tiriamola su ecco così è più semplice e ora possiamo tirarla giù e iniziare a scavare raccogliamo la sabbia ah ma qui abbiamo trovato una barca una bellissima barca la possiamo mettere nel nostro camion e ora andiamo avanti a cercare altre sorprese ecco qui ecco ecco un'altra barca ecco ora la aggiungiamo alle altre forza venite ed ecco qui un'altra sorpresa e ora vi faccio la strada per arrivare a raccoglierla e Grazie a tutti. ecco qui brava scavatrice solo che ci sono tantissimi sassi ora li togliamo venite ecco un'altra bellissima barca blu le possiamo impilare ma questo è un sasso piatto vedete sapete cosa si può fare con l'acqua vi faccio vedere è così avete visto e ora cosa vogliamo fare forse c'è ancora un qualche altro pezzo da trovare eccolo bravissimi camion e ora vi aiuto ecco una bellissima barca la aggiungiamo alle altre e ora vediamo quali bar che abbiamo preso ecco qua quante sono come sono a voi piacciono questi giochi una due tre e quattro bellissime di che colore sono gialla azzurra azzurra verde rossa bellissimo ora possiamo portarle tutte insieme e giocare nell'acqua andiamo in un posto dove possiamo farlo e divertirci ecco avete visto possono navigare anche una sopra l'altra per esempio le potete mettere nel mare ma se volete anche nella vasca da bagno adesso andiamo a casa venite oh mi stavo quasi dimenticando le mie macchine e il mio camion forza andiamo eccoci qua adesso che siamo a casa intanto le laviamo così togliamo tutta la sabbia ecco qua adesso possiamo metterle nella vasca gialla azzurra rossa rossa ecco qua possono andare dove gli pare girare avete visto come navigano bene nell'acqua anche a voi piace se sì allora continuate a seguire il nostro canale e troverete tantissimi giochi di questo tipo e molti altri ciao 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 oggi facciamo un bel bagno con i nostri amici eccoci qua pronti qui c'è la nostra amica anatra qua qua il pesciolino rosso e il ranocchio ecco qui sentiamo come l'acqua mi sembra buona anatra tu hai gli occhialini quindi puoi andare a fare i giri sott'acqua sei pronta? sì non vedo l'ora mi tuffo ecco posso ispezionare il fondale e trovare delle preziose pietre da portare in superficie ecco qui questa rossa ma è bellissima vediamo se trovo qualcos'altro ecco qui ecco qui allora ranocchia sei pronta a fare il bagno? ma io io non so nuotare ma non ti devi preoccupare hai salvagente eh bello oh 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 però però c'è c'è troppa corrente qui ho paura dobbiamo trovare una soluzione ho un'idea proviamo a costruire una bella piscina tu aspetta qui intanto noi prendiamo dei sassi più grandi e li sistemiamo in questo modo ecco fatto ora hai la tua bella piscina dove puoi nuotare tranquillamente che bello così sì che mi diverto perfetto e ora andiamo a trovare le nostre amiche macchinine a tra poco ecco qui ciao amiche come state? siamo qui che sistemiamo la spiaggia spostiamo un po' di sassi ecco così qui anche questo perfetto e ora avremo bisogno di una paletta per poter sistemare meglio il terreno ecco è la paletta ci penso io ah grazie in questo modo possiamo pareggiare la sabbia e adesso possiamo preparare con quello che abbiamo i lettini per i nostri amici questo qui questo qui potrebbe andare bene anche questo e tre ecco qui uno due e tre li sistemiamo e li incastriamo bene così e questo è l'ultimo ecco fatto ecco qui i nostri amici è arrivata l'ora del riposino ecco qui gli amici andiamo a recuperarli con questo ecco qui il pesciolino come stai? e l'anatra? ehi vieni eccola qui e ora andiamo a fare il riposino perché è stata una giornata lunga è troppo bello mi sono divertito tantissimo avevo tanta paura dell'acqua sono così stanco vado a dormire buon riposo anch'io mi metto qui nel lettino giallo come me e per te pesciolino questo è il posto giusto quella arancione buonanotte e buon riposo grazie macchinine per averci aiutato e ora è il momento di darci una lavata visto che vi siete tutti sporcati con la sabbia andiamo a fare un tuffo ecco qua in questo modo ci possiamo togliere tutta la sabbia e possiamo anche noi continuare a giocare come tutte le altre puntate che potete seguire sul nostro canale a presto amici